È nata una nuova ditta denominata Arte e Tecnologia. Arte perché abbiamo installato questa tecnologia su quadri e pannelli che arredono l'ambiente. Tecnologia perché è una tecnologia innovativa, Covid-free. Tecnologia Fear Infrared, presente nel nostro bar già da fine del 2020 come prototipo ed ora pronta per la produzione. È una soluzione adatta a tutti i tipi di ambienti, pubblici e privati, ristoranti, bar, eccetera. Usiamo pannelli di radiinfrarossi che irradiano l'infrared nell'ambiente, riscaldando l'ambiente, i corpi caldi e sanificando l'aria. Per maggiori informazioni vieni a trovarci al barastra al centro di Pesaro.